Mirta Merdino, cari amici, Mirta Merdino, ne avevo già parlato recentemente, ora c'è la conferma, e Mirta Merdino dice che anche la polizia postale ha le armi spuntate e nessuno riesce a fermare queste notizie, cioè appaiono periodicamente dei post dove si utilizza un personaggio importante, in questo caso un Mirta Merdino, per spiegare che si possono fare soldi apparati e apparati con le criptovalute e per cui la Banca d'Italia interviene per denunciare il personaggio importante e si tratta di fake news, fake news fate molto bene. Tant'è vero che qua Mirta Merdino dice che anche la polizia postale ha le armi spuntate, sembra incredibile cari amici, sembra incredibile, ma è proprio così. Io la questione l'avevo già denunciata qualche giorno fa ed ora qua la ribadisco, va bene? Nel video che sto facendo ora vi metto il link che vi porta sulla notizia completa. Grazie cari amici e a tutti voi i migliori saluti dalle migliori opere di Serafino Macedoni. Grazie.